Su quei primi passi circolano leggende metropolitane, addirittura non si danno pace, credo che abbiano fatto anche alcune inchieste giudiziarie tutte finite, otto inchieste giudiziarie per capire come lei ha iniziato a fare l'imprenditore, ce lo racconta? Nella maniera molto semplice, una volta laureato e avendo chiaro che non volevo andare a padrone, cercai un'attività imprenditoriale che fosse promettente. In quel momento c'era il boom edilizio, la città di Milano si ingrandiva a vista d'occhio, mio padre era diventato direttore generale di una piccola banca, la Banca Rasini, ebbe la possibilità di presentarmi un imprenditore edile che non faceva l'immobiliarista, non costruiva immobili in proprio, lavorava per terzi. Si chiamava Pietro Canali, andai da lui per qualche mese facendo lavori vari e poi capii che per le nuove case c'era un mercato forte in quel momento. scelsi e trovai una zona dove c'era un piano urbanistico approvato dal Comune di Milano e i cui proprietari di terreni vendevano il terreno con già la possibilità edificatoria, feci dei calcoli, andai a sentire, mi ricordo la Banca Nazionale, se un'iniziativa del genere avrebbe potuto fruire dei mutui della banca stessa, costruì perciò tutto un budget, un piano, e mi recai una mattina, che mi ricorderò sempre da questo signor Canali, a dirgli guardi io ho trovato questo terreno, c'è la possibilità di un finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro, possiamo costruire in proprio queste quattro case e quindi le propongo di correre questa avventura con me. E lui mi disse, però non l'ho mai fatto, però forse è vero, gli utili maggiori non si hanno costruendo, facendo l'impresa, ma facendo l'immobiliarista. Va bene, allora te quanto vuoi dalla società? 10%? Io lo guardai e dici no, no, io in fondo le porto il progetto, ho trovato i terreni, sono convinto di poter avere i mutui, farò io il direttore, l'amministratore delegato della società, e no, penso che sia giusto avere di più. Cosa vuoi? 15%? No, guardi, allora oso dirle, 50 lei e 50 me. Oh signore, mi ricordo la frase, che ha soltanto le pulci che gli corrono sulla schiena, è un modo milanese per dire uno che non ha sostanze. Gli ho detto, no, no, guardi, che mio papà mi mette a disposizione la sua pensione. E cominciamo così, con 30, lui accettò dicendo, se sei così matto e hai il coraggio di chiedermi il 50%, ti che te siete un fiulet, che è appena venuto fuori dalla scuola, vabbè, evidentemente c'hai dei numeri. E facemmo la società, si chiamò Cantieri Riuniti Milanesi, e io mi presentavo così, Cantieri Riuniti e lui, milanesi, sono io. Partì con una segretaria, che era la figlia del portiere dove aveva l'ufficio. E mi ricordo che un giorno la trovai a fare altre cose, gli dico, ma tu devi prepararti. Quando arrivano le telefonate, gli diedi un quaderno, dico, scrivi le telefonate che arrivano, che erano peraltro pochissime, perché era appena all'inizio, e le scrivi qui. E mi ricordo sempre che lei mi fece trovare, il giorno dopo, tutto il quaderno con su scritto ha telefonato, ha con l'accento e non con la H, ha telefonato, ha telefonato. Ecco, per dire, gli inizi sono stati proprio modesti. E quindi cominciamo a comprare questo terreno, versammo 30 milioni, che era l'intera liquidazione di mio padre. Mio povero papà ebbe il coraggio di puntare su suo figlio tutto quello che aveva. Gli sarebbe andato in pensione dopo qualche mese. E quindi aveva molte, ebbe molte sofferenze. Si svegliava di notte. Mia mamma mi raccontava di tutti i dubbi, le perplessità che aveva mio padre. Mi ricordo che dovevamo fermarci, andando a siglare il rogito di questo terreno, che costava 190 milioni, dove avevamo una caparra appunto di 30 milioni, e ci dovevamo fermare in tre bar, perché lui doveva sempre fare i pipì. E questo per dire come era preoccupato in pensiero. Finalmente compramo questo terreno, con questi 30 milioni della pensione di mio padre, Canali iniziò a costruire con il capitale di 30 milioni che mise lui, e poi io cominciai a inventare un modo diverso per vendere le case. Cioè appena raggiungemmo il secondo piano con la struttura, feci impermeabilizzare tutto il secondo piano, e feci completare il primo piano tutti i tipi di appartamenti che c'erano. E in questi tipi di appartamento misi tutto ciò che serve a trasformare un appartamento vuoto in una casa accogliente. Riuscì a prendere con dei mobilieri, avere dei mobili in esposizione, feci man bassa di tutte le foto di casa mia, delle mie azie, eccetera, eccetera, di tutti gli asciugatoi, e costruì. C'erano quattro tipi di appartamento e c'erano quattro tipi di arredi diversi. Cosicché le persone che venivano a visitare la casa avevano subito la sensazione completa di come poteva venire la loro casa. ebbi l'aiuto nell'arredo di alcuni amici e compagni di scuola che si erano laureati in architettura, e cominciai a fare le vendite. Forse c'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me l'ha messa a disposizione. Dentro feci un ufficio, io sono un perfezionista particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente seri un bel fio, perché facevo tanto sport, e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. E' solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, andai dentro, to, 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 cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere, riuniti, milanesi, eccetera. Dopo un po', quello lì divenne cliente, visibile, visitare, e dice, penso che però c'era uno fuori quando siamo arrivati, che le assomigliava molto. E gli dico, sai, ero un mio cugino, era un po' balbuziente, e si sa, se non ci si aiuta tra parenti. Arriva a Milano 2 e costruisce le inventa in Italia. Ma prima c'è stato il centro di nord, 5.000 abitanti, quindi passare da 4 immobili a un'intera città è traumatico, e quindi anche lì è stata una gara. E intanto è arrivata la crisi. Per cui io avevo cominciato, perché ero ancora negli anni 60, poi venne la crisi e lì non si vendeva più un appartamento. E quindi non vi dico, la società la feci con il signor Canali, con il nostro commercialista, tutte le persone che conoscevo direttamente, e con due soci che erano due costruttori di Milano, i comandatori botta. Beh, anche questo è un episodio divertente. Va su il primo condominio, stesso sistema, arredo tutti i diversi tipi di appartamento del primo piano, sto per convincere una persona, il primo cliente, a firmare il copio commissioni, sono dentro nello stesso ufficio che mi aveva portato fortuna a Milano, che avevo trasportato lì, e a un certo momento arriva il comandatore Giovanni Botta e si appoggia alla finestra e comincia a guardare quello lì e fa, ma lui se le dà e fa, e gli dico, il signore sta comprando un appartamento da noi. Uè, ma che curaccio che ha! Che curaccio! Ma, chi ginsì, la casa sarà finita, quanti appartamenti occupati avremo? Des? Dudes? E quello si è spaventato moltissimo. Questo era l'appoggio che mi davano i miei soci. Io avevo inventato, cercavo sempre di fare delle cose nuove, no? Facevo degli slogan, per esempio, quando a Milano piove c'è il sole al centro ed il nord. Non è molto bello il centro ed il nord, ma mi fu imposto dai Botta, che dicevano, no, la società si chiama ed il nord, e noi dobbiamo fare pubblicità al marchio e al nome della società, per cui centro ed il nord. Quando a Milano piove c'è il sole al centro ed il nord. Poi facevamo dei volantini che si tiravano, si apriva l'occhio del personaggio che era indicato, e dentro c'era scritto, sono felice, sono contento del mio nuovo appartamento. Dopo il centro ed il nord, che io risolsi vendendo agli enti che compravano le case per garantire le pensioni, vendetti il primo, quello che doveva essere un condominio, diversa, un'unità unica, ai dirigenti commerciali, ai dirigenti commerciali, io avevo vinto un premio per la migliore tesi sulla pubblicità, era la pubblicità per inserzione, avevo conosciuto il presidente di questa commissione, che si chiamava Comendatore Michiara, che era anche presidente di questa associazione di dirigenti. Mi rivolsi a lui chiedendo di esaminare la proposta, mi dissi guarda non c'è nessuna possibilità, perché abbiamo comprato gli stabili fino adesso a Roma, e a Roma ci sono tutti dei giri che sono consolidati e tu certamente non vuoi fare altrettanto, ci mancherebbe. Allora però vorrei che i consiglieri magari venissero almeno a visitare il quartiere, dici guarda io non te lo consiglio, però se vuoi mi inviò il direttore generale, che era uno del giro, e vide che mancavano ancora un mese e mezzo, due mesi alla finitura delle case. Si stava finendo l'esterno, ma c'era cantiere in mezzo, non c'era niente. E poi per farmi uno scherzo, visto che Michiara insisteva perché i consiglieri venissero a visitare, mi anticipò e invece che due mesi dopo, come io ebbe a chiedere, mi disse veniamo alla fine del mese. Io ero disperato perché avevamo un cantiere da far vedere. Credo di non avere mai lavorato così tanto in vita mia, credo di aver dormito due ore per notte, ero giovane, i miei architetti con me, i miei amici di sempre, con le loro fidanzate, feci lavorare anche i parenti, assunsi un mio amico, conte fiorentino, come portiere elegantissimo, con tanto di cappello, inventai le scritte da mettere negli atri, mi ricordo che nel primo atrio, quello con gli appartamenti campioni, Nun chest bibendum, nun chest libero pede, terram attendum, eccetera, quando torni a casa, finalmente sei nell'oasi, riposa, domani riprende, crassi terabimur vastum equor, domani riprenderemo il vasto mare. E comperai un campo di calcio, era la prima volta, adesso l'abbiamo fatto tante volte, per il campo di San Siro, comprai un campo di calcio e al posto del cantiere centrale misi un giardino con l'erba, tutta cresciuta, andai in Olanda e ordinai non so quanti fiori e misi intorno a ogni ingresso delle vasche con dei fiori, una fontana al centro, portai dall'Olanda degli alberi, già era fine di febbraio, quindi in Italia non erano ancora fioriti, gli alberi, lì l'erano in sera, quindi feci degli alberi, un giardino bellissimo, un vialetto che univa tutti gli ingressi e completai gli appartamenti campione. Quando questo direttore, che si chiamava Dottor Dodè, arrivò con i consiglieri pensando di portarli in uno dei soliti cantieri, rimase incredulo, perché, dice, due mesi fa, lì avevo introdotto il famoso sistema Silvio Berlusconi di costruzione, che poi ho applicato tante volte, l'ho applicato per esempio in Abruzzo, dove sono riuscito, con tre turni giornalieri di otto ore e lavorando il sabato e la domenica, a costruire le case per 30.000 abitanti in meno di cinque mesi. E lì, in un mese, feci il lavoro di due mesi e più e si trovarono di fronte a una cosa che appariva finita, meravigliosa, portiere. Poi avevo fatto tante invenzioni, si accendevano le luci battendo le mani, sulle terrazze c'erano i raggi infrarossi che permettevano di pranzare fuori anche nei mesi di mezzo, eccetera, eccetera. Vennero questi signori, ma siccome io sono un perfezionista, non mi accontentai di avere terminato tutto, ma pensai che dovevano vedere che c'era anche un mercato adeguato ed era un mercato per l'affitto, non per la vendita, quindi c'era la esigenza di casa. E allora cosa fece? Telefonai a tutti i parenti, a tutti gli amici e dissi sabato mattina venite a visitare gli appartamenti. Il vicepresidente di questo ente, che era il capo del giro di là, fumava delle sigarette, mi ricordo ancora la marca, Astor, e accendeva la sigaretta seguente con il mozzicone della prima. lui andò con il pacchetto di sigaretta e dice toh, l'ho finito. E adesso a quante ore da qui trovo un tabaccaio? Io gli dissi, guardi no, il tabaccaio lo vede là, la famosa costruzione con i pilastri, che erano puliti naturalmente, e martellinati. il primo negozio sull'angolo è un bar con la tabaccheria e sarà pronto tra tre mesi. Ah, perché io sto male se non trovo da comprare subito le sigarette. E questa fu una delle critiche. Lì io mi si allegri tutti con una barzelletta che però è un pochettino spinta e quindi non la racconto. Ma era molto carino. Questo andò sul terrazzo, stette fuori dieci minuti, portò il no indietro e dice ma che strana questa clientela che qui è fatta. Perché? Cos'era successo? Era successo che io non avevo chiamato una mia cugina che era un po' matta. Questa telefona la mattina mia madre e gli dicono in casa no, la mamma è a vedere i nuovi appartamenti di Silvio. Poi telefona a un'altra zia dice no, la zia è a vedere gli appartamenti di Silvio. Poi telefona a due miei amici sono tutti al centro di nord a vedere gli appartamenti di Silvio e dice questa cos'è successo? Come mai io non ci sono? Allora arriva su e ritorna a Mancuso e dice c'è una che è entrata qui e guarda caso conosceva tutti i visitatori e li baciava e abbracciava con grande slancio esattamente come si fa ai matrimoni o ai funerali. allora io confessai che avevo colto l'occasione della loro visita per far bella figura anche con tutti i miei amici e fargli vedere il grande lavoro che avevo fatto e come era venuto bene il prodotto che offrivo a loro e quindi me la cavai e poi comperarono questo condominio e io fui l'unico imprenditore che nella crisi avendo coraggio riuscì a diventare praticamente il primo immobiliarista d'Italia poi feci Milano 2 poi feci Milano 3 e tante altre cose ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che liberalizzò le televisioni locali e io volendo dare tutti i servizi e più servizi possibili alla nuova città che è Milano 2 era davvero una città modello ancora oggi abbiamo le visite di urbanisti architetti da tutto il mondo perché è una città a sviluppo orizzontale con tre tipi di strade diverse per i pedoni per le biciclette per le automobili quindi i bambini possono uscire da casa e andare da soli all'asilo o a scuola senza mai incontrare né una bicicletta né un'automobile ed è un vantaggio grande allora pensai di dotare la città di una televisione via cavo per consentire alle mamme di seguire i loro bambini nel campo gioco di seguirli nello sporting nella palestra o nella piscina o di poter seguire la messa e la predica che lì si celebrava nella chiesa del quartiere da casa quindi l'avvio fu semplicemente della televisione come servizio in più nella città modello di Milano 2 ai residenti poi venne fuori appunto questa possibilità delle televisioni licali cominciai ad occuparmene e capì che la RAI era un monopolio che non solo si era trasformato in un monopolio usato dalla politica perché tutti coloro che lavoravano in RAI erano stati messi lì da loro amici parenti protagonisti della politica quindi c'era una RAI molto poco libera ma capì che la RAI avendo pochi spazi di pubblicità c'era solo il carosello e un altro spazio non consentiva a molte imprese di svilupparsi perché la pubblicità è un fattore fondamentale per far conoscere il proprio prodotto al grande pubblico c'era un generale che in pensione che era il capo della pubblicità della RAI che divideva soltanto tra le grandi aziende la possibilità di fare questi caroselli e negli altri paesi non in Europa ma in America la pubblicità invece andava ogni 20 minuti 3 intermezzi all'ora e c'erano 6 spot pubblicitari per ogni intermezzo e questo consentiva alle grandi aziende di svilupparsi alle medie aziende di diventare grandi alle piccole aziende di diventare aziende medie e allora mi intravidi nella televisione una grande possibilità di sviluppo nonostante gli editori professionali in campo si fossero già buttati sulla televisione con delle avventure tutte negative Rosconi Mondadori Rizzoli entrarono nella televisione con le idee della carta stampata e andarono tutti incontro al fallimento con la perdita di molti investimenti io invece pensai che c'era la possibilità di una televisione diversa e però non avrei potuto portare pubblicità sulla televisione se il grande pubblico non avesse sentito questa televisione come una televisione live in diretta per avere la pubblicità dalla Coca Cola e chiedere un certo prezzo per ogni spot bisognava che la Coca Cola avesse la prova del numero di persone che avevano visto questo spot quindi pensai bisogna che tutte le televisioni locali in Italia costituite in rete mettano in onda lo spot della Coca Cola tutte insieme in quel preciso momento alle 9 e 30 per esempio in modo che le società di verifica degli ascolti possano dire alla Coca Cola quante persone hanno visto il loro spot e non si poteva perché non potevamo trasmettere in diretta lungo tutta l'Italia allora mi inventai l'idea del Master cioè il giovedì per esempio feci tutto il programma che doveva andare in onda la domenica scrissi negli studi ricordatevi che oggi è domenica quindi anche il pubblico doveva mettersi l'abito della domenica farsi la barba eccetera eccetera le persone che presentavano per esempio la domenica pomeriggio dovevano sapere che era aria di festa e poi provvedi a mandare tutti i Master con un sistema preciso che consentiva la messa in onda contemporanea in tutta Italia e inventai una falsa televisione live in diretta fatta attraverso i Master e questo fece sì che la nostra pubblicità decollò 12 miliardi primo anno 120 il secondo anno 520 il terzo anno finalmente il Parlamento votò la possibilità della diretta anche per le televisioni private e da lì la televisione decollò facendo un gran bene all'economia italiana perché ebbero accesso già nei primi anni più di mille inserzionisti mentre gli inserzionisti della RAI erano una trentina in tutta Italia anche perché lei si inventò un nuovo modo di vendere la pubblicità sì la pubblicità veniva venduta siccome c'era solo la RAI e anche gli altri editori uguali con le agenzie invece mesi insieme con il misi a capo un mio carissimo amico dell'Utri di Publitalia Gagliani l'attuale amministratore del Milan provvide a illuminare tutto il territorio nazionale con le antenne io feci la televisione e riuscimmo ad avere così tante pubblicità perché andavamo direttamente non dalle agenzie come facevano tutti gli altri ma dalle aziende e praticamente guadagnarevate sull'aumento di fatturato che la pubblicità provocava inventai anche un sistema di questo genere non un'azienda che faceva un fatturato di 300 miliardi di 3 miliardi per esempio io dissi voi investite 200 milioni in pubblicità noi ve ne facciamo per 500 milioni i 300 milioni che vi facciamo in più ce li pagate soltanto se avete in contemporanea con la pubblicità un corrispondente aumento delle vendite corrispondente Grazie.